Amici dei fuoricampo, buongiorno e ben ritrovati con un nuovo videomonografia. Come vedete, tra un video e l'altro sto sperimentando anche nuovi strumenti dati da software e hardware. Ci vorrà un po' per una calibrazione definitiva di tutte le cose, ma come vedete sto cercando di apportare tutti i miglioramenti possibili, nonostante un mese di gennaio abbastanza complicato per il sottoscritto e anche l'inizio di febbraio, tra parentesi. Ma spero che si possa tutto sistemare al più presto. Detto questo, mi raccomando, continuate a supportarci come state facendo. Iscrivetevi se volete darci una mano a crescere e ad arrivare al primo traguardo un po' ciccione per questo progetto, ovvero quello dei mille iscritti. Vediamo un po' la luce, tra virgolette, in fondo al tunnel. Se siete iscritti, mi raccomando, ricordatevi di mettere un mi piace e se vi va di commentare, perché commenti e condivisioni sono il modo migliore per far salire il video nelle varie graduatorie e con le varie chiavi di ricerca. Detto questo, fatto il momento a Marchetta, siamo arrivati a un momento importante, nel senso che questa, tra virgolette, benedetta monografia su Pablo Marie è stata abbastanza travagliata perché ogni volta che volevo farla, più o meno, sono stato poi costretto subito a rimandarla per, come sentite, per motivi o di salute o di, o tecnici, perché dovevo farla ieri, ma poi abbiamo avuto l'occasione di organizzare, di organizzare un talk show con niente meno che il direttore sportivo del Venezia, Mattia Collauto, quindi andatevi a recuperare la puntata se la siete persa. ergo, forse spero che questo terzo Chuck sia quello buono. Allora, Pablo Marie è il secondo innesto per la difesa dell'Udinese, che ha perso a gennaio De Maio e Samir. Per De Maio, ovviamente, massimo rispetto per quello che ha dato nella sua avventura ad Udine, ma è una perdita, tra virgolette, minore, perché ormai era abbastanza evidente come fosse finito fuori dal progetto tecnico, mentre Samir è stata una perdita un po' più pesante e andava sostituito in qualche modo. E allora, per sostituirlo è arrivato, appunto, Pablo Marie, difensore spagnolo, calso di 93, quindi già abbastanza maturo ed esperto. Non è proprio un giovanissimo, non è un giocatore dalle belle speranze come Benkovic a caccia di riscatto, è un giocatore che ha già una sua storia, ha già un suo tra virgolette vissuto ed ha una carriera, anche tra l'altro, se ne andiamo ad analizzare, molto particolare. A primissima vista, sempre risottolineando che i video che trovate online, i video su YouTube o su altre piattaforme, sono sempre molto parziali, perché anche un giocatore di categorie dilettantistiche, scusatemi, con un buon lavoro di montaggio, può diventare un grandissimo giocatore, quindi poi la prova finale va sempre vista sul campo e nelle prestazioni quando sarà scelto da Mr. Cioffi. Detto questo, sembra che sia molto interessante come giocatore, soprattutto per la capacità di impostare da dietro, che è un po' una cosa che manca nell'Udinese, in questo momento c'è solo Wallace sostanzialmente in grado di fare impostazione dal basso, se almeno questa è l'idea che è emersa in questi mesi di Udinese, dove francamente di costruzione è stata ben pochina e Wallace era un po' l'unico addetto ai lavori. Ecco, Pablo Maria ha un sinistro veramente interessante, soprattutto per il lancio lungo dalle retrovie, magari per innescare i vari Udoghi, Soppi, Machengo, Deulofeu quando c'ha voglia, e tutti quei giocatori lì che in velocità possono dire la loro. Prendiamo di un giocatore che è cresciuto nelle giovanili del Mallorca, quindi una squadra comunque spagnola di un certo peso, poi si è affermato in prestito al Gymnastic, dove ha collezionato 96 presenze e ha ottenuto anche una promozione nella Serie B spagnola, dalla C alla B, e poi c'è un po' una svolta nella sua carriera inaspettata, nel senso che Manchester City ha intravisto in lui qualcosa di interessante, perché comunque è uno di quei difensori, un po' passatemi ovviamente il paragone, alla Bonucci, nel senso capace di difendere, con un buon senso della indifesa di marcatura e copertura preventiva e letture preventive, unito a un piede da regista basso. Questa è un po' l'idea e il City lo ha notato e ha voluto tesserarlo, almeno eventualmente per non perdere magari un talento importante. Un tesseramento che non troverà però troppa fortuna, perché comunque passerà in prestito al Girona, al Breda, al Deportivo La Corugna, dove si gioca, ma non a livelli tali dal convincere il Manchester City a puntarci anche per la prima squadra, infatti poi viene ceduto al Flamengo. Questa è un po' una curiosità della sua carriera. si è fatto un'avventura in Brasile con la maglia rosso-nera, tra l'altro, come dire, scherzi del destino, giuocchi del fatto, la stessa squadra da cui proveniva Samir, che fu prelevato da Udinese e dal Flamengo per circa 4 milioni di euro a tempo, poi fu girata in prestito momentaneo all'Ellas Verona per mancanza di slot da extracomunitario, e anche il ragazzo in conferenza stampa ne ha parlato, gli è stata fatta una domanda specifica sulla cosa, perché comunque un giocatore europeo che va in Brasile, tra l'altro nel fiore della carriera, è un po' una, come dire, una stranezza, una particolarità, non è proprio consuetudine, di solito sono i giocatori brasiliani che torneranno in patria o i giocatori europei a fine carriera che tentano l'avventura tra Sud America e Centro America, anche il Messico è un'ambiente abbastanza esetonata. Eppure Pablo Mari invece ha un'età non, comunque, particolarmente tardiva, perché insomma aveva circa 26 anni, e decide di giocarsi le sue carte nel campionato brasiliano e comunque si toglie la sua soddisfazione al Flamengo, perché riesce a vincere anche la Coppa Libertadores, che è insomma un po' l'equivalente della nostra Champions League, è chiaro che non ci sono i giocatori, cioè non ci sono le squadre di livello come la nostra Champions, però comunque nella massima competizione della Sud America è riuscito a sollevare questo trofeo, oltre ad altri conoscimenti. Proprio grazie a questa avventura in Brasile lo rinota l'Arsenal, che evidentemente se l'era già appuntato ai tempi del City, lo prende in prestito, stagione un po' sfortunata, c'è un infortunio, però l'Arsenal decide di puntarci, lo paga 6 milioni di euro, quindi neanche una cifra piccola, sì per una big è piccola, ma se pensiamo a una media squadra, cioè se Udinese dovesse spendere 6 milioni di euro non sarebbero proprio bruscolini, ecco. e comunque nella sua seconda stagione Pablo un po' la fiducia la ripaga, perché 16 presenze, 10 in Premier League, 5 in Europa League, altre esperienze quindi internazionali, dimostra anche di saper usare la testa per segnare, oltre che per difendere, e quindi insomma sembra che con l'Arsenal possano essere le rose, che possono affiorire le rose, diciamo, in questo modellamento della metafora, però non riesce in questa stagione ad imporsi definitivamente e viene messo sul mercato dall'Arsenal. Erano in tante a cercarlo, erano almeno stando ai rumus tantissime squadre a cercarlo, tra Italia, Spagna, ma anche Olanda, dopo visto che ha fatto Nac Breda che era olandese, dove insomma è conosciuto, erano in diverse squadre che lo cercavano, poteva anche essere una delle opzioni spendibili per il Milan, per tamponare la perdita di Kier, per l'ingrave infortunio che l'ha bloccato. La spuntata rudinese ha dei termini un po' così, perché comunque in prestito secco come alla Pablo Pe, alla Pablo Pe, sì, ciao, alla Neu en Pérez, però è chiaro che è uno di quei prestiti dove l'Arsenal evidentemente non lo considera ormai più fondamentale. Anche perché l'età, sì, margini di crescita possono essercene ancora, non è che ne ha 40 anni, però non è che ha più tutto questo tempo per crescere. Ergo, magari, se nel gioco di ritorno all'Udinese dovesse fare una discreta stagione, ma non tale da dire una big, no, ok, me la voglio riportare alla base, perché mi posso dire, l'Udinese potrebbe anche in tavola una trattativa per riscattarlo. È più facile lui che per dire Neu en Pérez, che è molto giovane, nel giro della nazionale argentina, già di proprietà dell'Atletico Madrid, ecco, tra i due, sarà molto più facile eventualmente trattare Pablo Marí. Detto che invece sull'altro piatto della bilancia c'è il fatto che comunque mi viene, per quanto a logica sia lui il sostituto di Samir, quindi si andrebbe a fare una difesa a tre, Pablo Marí, Nguintinck, Becao, che poi magari, come spesso accade con Ciòfi, diventa a quattro nel corso d'opera con i vari scambi di posizione, le varie scalate, mi viene un po' difficile però pensare che Pérez torni in panchina con questa facilità, perché Pérez ha dimostrato una crescita molto importante in queste settimane, cioè è veramente stato sempre, quasi sempre tra i migliori in campo, quindi Pablo Marí secondo me dovrà sudarsela più di quanto sembri per ottenere, poi magari prende subito il posto da titolare, Pérez finisce nel dimenticatoio perché appunto è in prestito senza diritto di riscatto ma solo prolungabile per un'altra stagione e quindi vediamo, vediamo un attimo, è un balottaggio molto interessante sempre tenendo conto che c'è quel Benkovic che attenderà un'occasione anche perché lui è arrivato a titolo definitivo, vuole rilanciarsi dopo che il Leicester ci aveva puntato fortemente ma non è riuscito a incidere, quindi si fa molto curioso, molto affascinante se vogliamo usare certi termini magari non proprio calzanti ma efficaci le situazioni nella difesa di Udinese sicuramente molto più che rispetto alla cintola in su dove abbiamo spesso detto e ribadito in tutti i video e in tutte le salse che è un po' anemico la cosa pensiera di Udinese e vedremo invece da quel lato cosa succederà perché comunque i rinforzi ne sono arrivati e ergo Cioffi dovrà cambiare un attimino il registro da quelle parti. Bene, quindi anche per Pablo Marie abbiamo un'infarinatura speriamo aumenti il tasso tecnico dalla cintola in giù e vedremo adesso contro domenica nella partita di domenica contro il Torino chi sceglierà Cioffi pare che Pablo possa avere già un'occasione ma secondo me ripeto è in vantaggio più Perez e ci vediamo con il consueto video post partita per analizzare un po' il risultato e prestazione dei bianconeri delle zebrette e in caso ovviamente come sempre di news particolarmente pesanti accenderò la cam e vi aggiornerò via video come sempre quindi continuate a seguirci un grazie per l'attenzione ricordatevi like se volete commentate io rispondo quasi sempre o comunque metto una reazione al commento un saluto e alla prossima ciao ciao ciao